9 febbraio 1485, Milano, canale di Gallows Game e siamo qua con la Super Milano ragazzi su Europa Universalis 4 e sono passati un po' di giorni dall'ultima volta che ho portato questa serie sul canale purtroppo è stata una settimana davvero pazzesca al lavoro e non sono riuscito a mantenere la continuità che mi ero ripromesso però eccoci qua, allora dobbiamo ancora fare il core su Lucca solo che a quanto pare abbiamo ancora un po' di War Exhaustion quindi dovremmo farci conti, nel frattempo avevamo un po' di questioni in sospeso nel senso che manco l'elettore, nei commenti mi avete scritto magari di far diventare elettore Mantova e vi discorrendo però questa non è una buona idea come ho spiegato ad Andrea nei commenti che mi ha appunto proposto questo perché se faccio diventare un elettore, un vassallo o un elettore o vassalizzo un elettore in sostanza se uno di questi è anche un mio vassallo, io ho meno 30 per quanto riguarda questo voto con tutti quanti e questa non è di certo una cosa positiva in più già avremo un Malos quando annetteremo Mantova in realtà fra 5 anni usciremo dall'impero quindi questo problema non si porrà perché non l'annetteremo a breve qua invece ci sono i François che sono in guerra con l'Inghilterra ok, in guerra con l'Inghilterra, Portogallo Papa e io spererei quasi che Burgundi ne approfittasse allora, ha una tregua con Aragona perché era un alleato una volta ma Castiglia ovviamente li ha fregati no, fino al 98 quindi non vedremo niente vediamo se Burgundi ne approfitta, Burgundi che è alleato con un po' di gente Venezia, sarebbe davvero interessante davvero davvero interessante e noi possiamo attaccare Siena per andare ad attaccare la Provenza perché se attacchiamo direttamente la Provenza entriamo in guerra con la Francia al momento non ce lo possiamo permettere stiamo ancora recuperando Uomini e Manpower ha cancellato Military Access abbiamo fabbricato un claim sulla Provenza, bene ok, è che quando si ricarica la partita c'è sempre qualcosa di strano allora diamo un attimo i miei claim sì, sono questi qua bene, adesso possiamo fare un claim anche su Nizza ora che ci penso io sto fabbricando su Siena però prima ok, Builds by Network aspettiamo di arrivare a 20 così abbiamo il Conquest Casus Belli contro Siena che ci servirà un sacco allora qua stanno andando abbastanza forte queste qua sono le truppe papali di certo che stanno andando avanti non ho ancora deciso chi rendere elettore è che non avere un elettore fa perdere anche questo e quello che ci serve andare avanti in realtà noi abbiamo già quello che ci interessa che è questo qua il development non so se durante la partita continueremo ad avere questi il fatto è che vorrei restare imperatore perché essere italiano, essere nell'impero dopo il 1490 non è una cosa bella a meno che non sia imperatori quindi vediamo un po' Liege non mi vuole tanto bene c'è la mappa di chi mi vuole bene mettiamo a posto subito sta cosa perché è importante allora, chi mi vuole bene? nessuno non possiamo mettere l'Austria perché è troppo grande e potrebbe per se stessa quindi tra questi adesso si vede bene la mappa mi sa che prima era un po' sminchiatella 21 no, neanche mi vogliono bene non mi vogliono bene né mai queste persone Frandeburgo non mi vuole tanto bene Mainz sì ma penso che ci voti già quindi non cambia una pippa perché in realtà abbiamo appena perso un voto di non Mainz appunto ma di Trier perché abbiamo chiesto in realtà dovresti essere contento nei nostri confronti perché ti abbiamo fatto rilasciare una provincia però ti ho fatto anche forse quell'altro quindi in realtà sì, ti ho fatto rilasciare Colonia però contemporaneamente ti avevo fatto fare un'altra cosa intanto chi è che è qui ancora Mainz no, Mainz gliela lasciamo perché è un elettore tra l'altro sta attaccando questo Ravensburg questi qua ci vogliono tutti perché sono addirittura in coalizione cioè potrebbero entrare in coalizione contro i due noi Aachen Glare non è neanche tanto piccolino Friisland questo qui è sotto assedio dei ribelli quindi non lo consideriamo potremo provare Glare allora che le anze c'è a Glare? Burgundi Burgundi no, voglio attaccarlo Pomerania, Glare stessa Friisland però non ci vuole tanto bene l'Olanda prima o poi uscirà anche Bargnat Bargnat è un cacchio di chiami la Pomerania eh potrebbe essere un elettore la Pomerania perché in questa zona qua potrebbe essere interessante allora Grant e Lepthor torno a casa da Castiglia l'altro ora tu a chi vuoi bene alla Danimarca Friisland Saxony no, non va bene perché andreste a votare o Saxony o la Bohemia che poi andrebbero a votare te stessa quindi è un casino tu Pomerania England no Friisland potrebbe andare bene controlliamo l'ultimo e questo qua gli altri poi come va va Friisland Danimarca dai rendiamo Glare e basta cambio di idea un po' di volte ma questo qua dovrebbe votare almeno non votare un altro lettore che è la cosa principale dove sei? allora Grant e Lepthor e poi di conseguenza andiamo a metterci Improve Relation già adesso dovrebbe avere un più 50 vediamo chi vota vota noi bene va bene continuiamo ad andare avanti così adesso non ci resta che aspettare per poter fare il core siamo un po' avanti con i punti militari qua c'è sempre solo Mainz si siamo un po' avanti con i punti militari e però siamo anche 7 anni avanti qua quindi probabilmente pomperemo un pochettino il manpower in questa zona qua sembra che o abbiano no, non hanno fatto pace ma i francesi si sono ripresi un attimino quello che era loro non stanno ancora assediando Avignone Avignone che è un forte diciamo che ce l'ha abbastanza forse scriptato comunque abbastanza sempre alto qua ci sono Mainz questa è una guerra abbastanza grossa sembra Saxony qui ok la cosa è che tra di loro si attaccano però nessuno attacca l'impero in questo momento perché se no entro in guerra anch'io e io chiamo ovviamente i miei alleati che non sono assolutamente delle pippe questi qua stanno recuperando non tanto forse perché ho il mantenimento un po' troppo basso pompiamolo un pochino giusto per farli arrivare al massimo qua c'è ancora un sacco di gente da recuperare qui altrettanta tra l'altro abbiamo il primo cannone potremmo farlo un altro giusto per tenerlo lì da parte però non ci servirebbe a nulla allora potremmo fare la tecnologia ma come vedete siamo troppo avanti noi facciamo ci siamo 9 punti al mese al momento non ci servono stiamo facendo una tecnologia amministrativa idea pardon quindi potrebbe anche non essere una cattivissima idea piazzarli qua così almeno riduciamo un attimo la produzione di questi che non ci interessano potrebbe essere una buona idea va buono fatto e nel frattempo quindi fra due mesi tu arrivi il prossimo mese puoi farlo ancora dopo ci sarà bisogno di fare development allora guardiamo qua allora development come vi ho detto si fa guardando semplicemente il costo che è questo quindi migliora caravaggio verde migliora del 60% 60 60 80% parma perché è dei nobili anche modena è dei nobili quindi qua conviene di più ma costa un po' di più di 5 quindi per adesso facciamo così e siamo a posto per un po' perfetto la vorrei guadagnare qualche soldino in più al momento quanto ci costi tu 1 e 2 quali sono i nostri costi in questo momento io tra l'altro ho dei debiti ne ho uno solo e posso fare repay 81 però non potrei garantirmi queste cose allora qua stiamo andando forse un po' troppo al momento cosa mi dice ok così va bene riduciamo un attimo questa e facciamo repay loan dobbiamo arrivare a 94 ok va bene allora aspettiamo le cose che fanno aumentare questa quali sono il fatto che sono overesteso probabilmente quindi dobbiamo fare e c'è quindi anche questa cosa qua che è diversa da prima cioè conta molto di più essere non essere overesteso allora quanto andremo a pagarlo adesso 108 il suo valore base quant'è voglio capire quanto andremo a perdere allora 23 23 per 10 giusto no perché 108 allora 23 per 10 a meno il 50% perché è un territorio ancora ok infatti dovrebbe costare 230 è aumentato il 4% quindi va a costare praticamente 8 punti in più allora aspettiamo ancora un pochettino che ce lo possiamo permettere senza problemi io qua non sto migliorando un tubo allora qua facciamo subito questo facciamo taratatata dove cavolo sei fabbrica claim su Siena non è che abbiamo altre scelte il claim permane per quanti anni per 25 15 anni non mi ricordo ah no scusate devo guardare questo per 25 anni quindi direi che non ci serve più a nulla miglioriamo le relazioni subito con te potremmo fare la royal marriage ma non penso sia il caso e con Saxony che ci vota ma non ci vota tantissimo improve relation cerchiamo di tenere questi valori sempre alti adesso Saxony ha cambiato idea però comunque abbiamo 3 voti gli altri al massimo 1 quindi non ci sono per adesso problemi abbiamo un caso sbelli lì qua sembra che non salga ancora bene aspettiamo che quella scenda ancora un po' nel frattempo come va la guerra sembra che le truppe inglesi siano scese qua abbiano fatto un ottimo lavoro lì quindi qua la Francia sta perdendo la guerra del 2% però la tu del 19% però la guerra è scozzese siamo ancora arrivati quasi al massimo ma io continuerei a pompare un attimino qui così allora sempre questo a questo punto tocca Caravaggio we have lost our cost has been rided ci hanno rubato 121 cosa vuol dire ah quindi sono arrivati sti cacchi di magrebini e ci hanno rubato le cose dalla costa questi qua i pirati allora dobbiamo assolutamente iniziare a fare delle navi però prima volevo pagare il debito e dopo faremo come mi ha detto Manuel almeno 10 navi commerciali che equivalgono al nostro force limit quindi come ti dicevo le nostre galere con la R non le faremo inizialmente andremo solo di navi commerciali qua dovremo anche costruire un bel forte per tenere tutti al sicuro allora quanti uomini ci mancano ancora 7000 si siamo un po' in una fase di transizione allora potremmo andare qua e diminuire gli interessi l'inflazione quanto abbiamo l'inflazione nel momento un pochino c'è effettivamente però prima penso che sia il caso di fare il core quindi deve via e andrei a pompare ancora un po' di più a questo punto diciamo così e così e così proprio di brutto un bel po' di manpower come vi dicevo vorrò giocare alto quindi bisogna per forza di cose giocare con questa strategia probabilmente non è ancora il momento buono per farlo però non abbiamo altri punti dove da mettere uh il papa è in guerra anche con Firenze che ha dichiarato guerra al papa provenza con questo Avignon uh attenzione quindi il papa è in guerra sia con la Francia che con che con la provenza eh questo qua potrebbe essere un brutto momento per il papa che andrebbe di sicuro a perdere Avignon perché la provenza è più forte di lui io quasi quasi do aiuto al papa do aiuto al papa vediamo se mi voglio comprare una delle due cose allora non siamo rivali quindi dovresti volerlo fare non abbiamo missionari missionari tizio deve andare torna a casa te vediamo se mi offre qualcosa allora per quella più piccolina ma col cannone mantenimento zero niente troppo grande perché no ah siamo rivali che scemo ok quali sono i miei rivali non mi ricordo neanche cioè io sono rivale di papa provenza e allora passa a parte che sono in guerra due miei rivali quindi la cosa dovrebbe farmi abbastanza piacere al momento però sono in tregua con chi con il papa la svizzera trier e ulm quindi non possiamo fare molto da questo punto di vista qua abbiamo recuperato il suo voto quasi questo qua è abbastanza sicuro mettiamo a posto un attimo Mainz che non so bene come si è messo la la bohemia invece sembra proprio tra le anze matrimonio reale non ci sono possibilità per loro di non essere nostri alleati fra quattro anni Mainz cosa è successo non ci trasferisce più trade power attenzione oh perdiamo stabilità 25 di legittimità mmm eh questa è una scelta abbastanza complicata allora cos'è che ci dà la legittimità national arrest tolleranza diplomatic reputation e in come from bustle ma io penso che possiamo anche perderla in questo momento perdiamo anche un po' di voti però il nostro imperatore è abbastanza giovane in questo momento ancora 30 anni quindi fa in tempo benissimo recuperarla attenzione che qua la Francia sembra che le stia buscando e io vorrei tanto vedere la Borgogna approfittarne sinceramente torna a casa da lì mi diremo poi le relazioni con Castiglia che vorrebbe anche allearsi no perché lui ha come rivale ovviamente la persona sbagliata che è l'Austria abbiamo Venezia che vuole farci un claim intanto vediamo qua come è la situazione ok ancora un mese e possiamo pagarlo a praticamente costo 0 dovrebbe costare 100 non 103 strana questa cosa perché vabbè facciamo così e basta ottimo mi piace che stia vincendo il PAP in realtà no non è mica detto siamo ancora un po' di anni avanti ok questo può essere una cosa particolare prendiamo più prestigio per praticamente 40 anni no 50 anni a questo costo o non lo prendiamo prestigio secondo me siamo messi bene quindi perdiamo prestigio non è una cosa che mi piace guadagnare in questo modo ok dai va bene Naxos intanto cerchiamo di capire perché non mi vuoi più passare il Trade Power si è diventato troppo grosso secondo me Transfer Trade Power niente semplicemente è diventato troppo grande è diventato assolutamente enorme perché si è popolo un po' del palatinato infatti potremmo chiedere dei territori e non sarebbero neanche pochi secondo me va bene e non mi vota neanche più va a votare Saxony che quindi vota di conseguenza se stesso allora pegiamo uno Spy Network o pegiamo un po' di Malus Venezia Green Casus Belli no queste sono solo cose negative non capisco perché non dovremmo fare questo allora abbiamo comunque due voti però vorrei tanto recuperare Mainz come siamo messi qua possiamo secondo me recuperarlo e recuperato Mainz ne recupereremo due va bene questa è una fase un po' di transizione adesso vorrei ripagare velocemente il mio debito quanti uomini mancano 3000 allora facciamo una cosa di questo genere andrei a pompare un pochettino il mantenimento delle armate in modo che qua tornino un pochino più velocemente se in sostanza in tre mesi siano a posto uno o in quattro mesi perdiamo un po' di soldi è vero ma i rinforzi dovrebbero andare via ancora un mese anzi due mesi abbiamo fatto corso Luca bene a questo punto andrei a fare così quindi andiamo a spendere un po' di punti no ok qua si spendono un po' di punti istantaneamente 115 perfetto quindi possiamo abbassare un po' i costi della della corruzione scendono comunque da soli siamo arrivati ancora ok adesso qua possiamo già ridurlo di molto abbiamo problemi a Modena si non è un problema recall ok siamo arrivati al massimo quindi non abbiamo assolutamente più bisogno dei rinforzi possiamo abbassare i soldi ecco questa cosa che non sono in positivo non mi piace tanto allora le armate costano davvero un sacco abbiamo il force mantenement a questo punto non essendo in guerra lo toglierei cerchiamo di sistemare la mia economia che non vorrei cadesse così in disgrazia dobbiamo abbassare assolutamente l'inflazione abbassata l'inflazione miglioriamo un po' tutto ok direi che al momento la cosa migliore da fare è andare a spendere i punti qui ok allora c'è l'eresia il clero piglia 10 di loyalty o il clero perde 10 di loyalty pigliamo 5 di prestigio local unrest in milano fino al 98 per 10 anni e perdiamo tasse perdiamo manpower no qua mi sa che i punti diplomatici li dobbiamo spendere ragazzi anche se non è una delle cose che mi piace fare prendiamo uno di stabilità forse è legato anche all'evento di prima bene ok abbiamo bloccato quei maledetti e vediamo se ora mi votano ok abbiamo 4 4 voti direi che siamo assolutamente a cavallo questo qua è un pochino sceso andrei a fare improve relation nel frattempo noi ci stavamo preparando per una possibile guerra contro venezia e questa qua contro la provenza direi che al momento è meglio aspettare un pochino magari di arrivare a 20.000 di manpower ripagerei il debito e dopo possiamo iniziare assolutamente recall a costruire navi anzi quasi quasi cambio di idea assolutamente costruiamo subito delle baracche che costano 20 perché non posso farlo perché non ho i marinai ok che me li hanno rubati questi qua com'è che si generano ok un attimo che questa cosa per me è nuova e tra l'altro siamo arrivati al massimo di punti quanti anni siamo avanti ancora un po' questa qua 700 col cavolo che pago quindi iniziamo subito a pompare un pochettino questi allora a questo punto possiamo fare così direttamente basta e dovremmo essere a posto vorrei capire come si generano questi allora our maximum is 100 wow adesso ne apriamo 0 to fully reinforce you need 0 0 0 0 maximum sailor of 25 from province adesso quindi cosa succede visto che qua c'è autonomia al massimo non si creano non si creano questi qui questi cioè fatemi capire un attimo questo qua genera manpower e sailors o solo manpower eccoli qua 35 quindi solo questo lo genera e al momento non lo genera perché c'è l'autonomia cioè in realtà dovrebbe generarne 35 ma non l'ho ancora fatto anche perché sono arrivati quei cavolo di mammeluchi quindi di conseguenza non possiamo fare altro che aspettare di ripagare il debito aumentano l'income del vassallo bene quindi tu mi dai più soldi ottimo adesso guadagniamo 0 65 niente ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto un pochino di transizione nel prossimo spero piglia più influenza bene chi è morto è morto questo tizio allora possiamo prendere questo o se no vediamo un po' qua l'influenza tu ce l'hai troppo alta il diplomatico mi sa che però me lo dai solo te esatto questi qua mi danno solo tizi ballerini quindi mi danno administration e anche questo qua administration quindi non mi serve possiamo prendere questo o spy network construction io penso che questo ci porterà più benessere a livello diplomatico quindi andrei in quella direzione niente ragazzi spero appunto che il video vi sia piaciuto se così fatemelo sapere con un mi piace o con un commento qua possiamo spostare qualcuno di lì lì forse lì dovrebbe essere di 3 quindi facciamo così e così questo dovrebbe un attimino diminuire i problemi qua in realtà di nulla però qua al sopra ah no 23 altri 3 posso portarne vediamo se questo cambia la situazione non la cambio di un tubo potremmo quasi quasi diminuire la l'autonomia far scoppiare la rivolta voi che cosa siete separatisti di modena potremmo far scoppiare la rivolta niente ragazzi adesso la guerra qua con la francia cioè tra francia e scozia e inghilterra penso sia un attimino in una fase di stallo perché qua ovviamente l'inghilterra ha stravinto però non riuscirà a fare nulla contro la francia mentre qua addirittura hanno fatto rilasciare urbino e ferrara che potrebbe essere un ottimo spuntino per quanto riguarda mantova ferrara che però è o non è nell'impero ferrara che è un nuovo principio imperiale quindi a questo punto aspettiamo l'anno prossimo in cui uscirà per poterla attaccare senza problemi e io resterò nell'impero resterò nell'impero poi c'è sempre il tastino per fare lì vampire da qualche parte qui così però non si può fare da imperatore ovviamente ci vediamo in un prossimo episodio ragazzi gg a tutti